Ciao Luca, grazie per aver fornito l'Associazione Noi l'articolo e la disponibilità all'intervista prima che uscisse su San Donato Mese. Pubblicheremo l'intervista e l'articolo su Rexando, la rete civica di San Donato Milanese e del Sudest Milano. Lo scopo di questa intervista è quello di poter ampliare lo spazio che viene dato a disposizione sul notiziario San Donato Mese alle forze di minoranza. Da sempre come associazione portiamo avanti l'idea che dialogare e gettare le basi per un nuovo futuro di condivisione e scambio di conoscenze possa far crescere la consapevolezza nei cittadini che insieme è possibile. Vuole quindi questa intervista essere una base di partenza per nuove prospettive e ti faremo due domande. La prima ti sarà fatta da Flavio Mantovani, vicepresidente dell'Associazione Noi. Vi do la parola, Flavio. Grazie Fabri, grazie Luca per aver accettato l'invito. Sì, ti toccherà sentire la prima domanda letta da me. No, intanto volevo ringraziarvi per l'invito, per l'attività che fa Rexando e noi, perché ritengo il civismo un valore importantissimo, soprattutto in questo periodo in cui le persone sono lontane dalla politica e dai partiti, però occuparsi dal territorio come fate voi da anni con le varie associazioni è veramente un valore aggiunto per San Donato e di questo vi ringrazio. Sono a vostra disposizione, anzi, questo periodo in cui non dobbiamo stare a casa, sfruttiamolo anche per fare rete, per fare dialogo, per fare comunicazione, come facciamo in questo momento con questi nuovi mezzi di comunicazione. Grazie ancora. Grazie a te Luca. Ma allora, come si dice in questi casi, entriamo subito in mediaresce su quello che sarà il cuore di questa intervista. Allora, va bene, gentilmente tu avevi inviato alla redazione di noi, quindi noi abbiamo potuto leggerlo, quel tuo bellissimo articolo che praticamente consta nel, diciamo così, nell'andare a viscerare un argomento. Allora, facciamo una piccola introduzione. Ci avevi inviato quell'articolo che tu, che praticamente comparirà sul prossimo numero del San Donato Mese. Diciamo un prossimo numero che forse non è ancora. Bravissimo, quindi nel senso sicuramente non è ancora arrivato a tutti. Mi sento di dire che forse non è ancora visibile digitalmente, quindi parlarne questa sera vuol dire proprio fare una, diciamo un'entrée anche per chi ci vorrà seguire e quindi siamo sempre pronti a dare qualcosa in più anche dal punto di vista delle news. Però sarà una questione di ore anche, che potranno leggerlo tutti, tutti, diciamo i cittadini sandonatesi. Il fatto di essere qui stasera è perché, come hai detto tu, in questo periodo parlarsi, discutere e anche fare sentire una voce, un dialogo è sempre qualcosa di più dell'andare anche a leggere un articolo che è sempre sicuramente un qualcosa di molto positivo. Quindi per entrare in mediaresa andiamo subito a dire che nel tuo articolo vai a toccare un argomento che sicuramente magari non è sulla punta della lingua per tutto quello che sta succedendo in questo periodo, però per chi si occupa di politica sandonatese e anche di civismo, una stupenda parola che hai usato in apertura tu, è sicuramente un argomento che in tempi normali avrebbe, diciamo, svolto o svolgeva una funzione forse più premiante. Però io che ho letto il tuo articolo posso dire che è stato scritto in una maniera nella quale viene posto anche in termini attuali. Cioè è sempre difficile per chi fa politica porre un qualche cosa prima di altri, qualche argomento prima di altri e forse anche, diciamo così, sintomo di, voglio dire, anche di un buttare il cuore oltre l'ostacolo, no? Il continuare a andare a parlare di programmi e di qualcosa che non sia sempre quell'argomento sulla bocca delle persone. Cioè oggi uno dice, ma cosa fai? Non parli di covid, non parli di questo, dell'altro, ma dopo se in serate come queste si riesce a eviscerare un dialogo denso, forse non è proprio vero che quello che si è andato a trattare non c'entra col covid. Perché a quello si può ricollegare il trasporto, un argomento che in termini di covid è molto dibattuto, cioè ma sarà stato un qualche cosa che ha sviluppato alcune dinamiche peggiorative. Insomma, secondo noi il trasporto pubblico e come ci si muove in un territorio è un argomento che non passa mai di moda. Quindi io ti ringrazio ancora e visto che forse mi viene più facile, avevamo fatto alcune domande, però provo a, diciamo così, a chiedertele, diciamo andandole a leggere. Quindi sembrerà un qualcosa di non troppo fluido, ma diciamo così l'ho voluta leggere perché anche per quelli che ci ascoltano poi o chi vorrà rivedere la registrazione rimane molto più scandita. Allora, si profila all'orizzonte una vera e propria grande ammucchiata. Stavolta nessun partito escluso, volenterosa di far vedere ai cittadini di essere pro-metropolitana sino a paullo. Cambiare idea è sempre un bene, ma se ci si fosse mossi molto prima, a quest'ora si sarebbe già potuto festeggiare con champagne. Tu che idea ti sei fatto su questo repentino cambio in corsa avvenuto ad esempio per la formazione politica del PD? Allora, faccio, diciamo così, una piccola, un piccolo cappello parlato dopo averlo letto. È, diciamo così, un qualcosa di questi giorni nel quale finalmente, dico finalmente, tutte le forze politiche, perché voglio dire a nostro avviso era veramente una voce stonata fuori dal coro il fatto di non vedere il PD combattere per il prolungamento della metropolitana. Ecco, con appunto questa, diciamo così, questa avvenuta nuova e, diciamo, entrata del PD in questa lotta, beh, ci sembra innanzitutto un fatto positivo. Cioè, finalmente, come è successo un anno fa, per quanto riguarda il prolungamento della metropolitana Lilla-Monza, o dentro il tessuto di Monza, con ben dodici fermate, solo della Lilla, ma altre sì, anche altre due della rossa, si è visto che, finalmente, anche questo argomento per il Sud Milano non è più un tabù, non è più un qualcosa che, diciamo così, della quale parlano solo alcune forze civiche, alcune forze politiche, ma, diciamo, con il PD, un pezzo da 90, che nel nostro territorio ha sicuramente tantissimo seguito, ha finalmente detto, con il Recovery Fund ci sono i soldi, siamo prontissimi, anche noi, a schierarci per questa soluzione. Beh, fatelo dire da da Sandonatese, amante del proprio territorio, è stato veramente, è come non so, è togliere un peso. Cioè, io credo che veramente, se ci metteremo insieme questa infrastruttura così importante per chi vive quotidianamente il territorio, pur rimanendo sempre il fatto che davvero non possiamo andare a dire come sarà il nostro territorio fra sei mesi, tra lockdown, smart working e tutto, ma veramente, per chi usa tutti i giorni la strada statale paulese, il poter dire, finalmente, ci potrà essere un'infrastruttura su ferro, lasciati dire che io sento di dare un grosso abbraccio a tutti i cittadini delle città, dell'asta paulese, perché, allora, naturalmente non è come dire domani, diciamo, ragazzi, prendete i biglietti che ci sarà, però arriviamo con forse vent'anni di ritardo, ma è un'infrastruttura che se veramente dovesse compiersi, per me sarebbe un plus per il territorio, diciamo così perfetto. Ecco, adesso lascio rispondere a te, era per quello di dire, sarà solo una grande ammucchiata o? Ma, guarda, mi ricollego inizialmente a quello che hai detto, tu, anche presentandomi magari a chi bene non mi conosce, io ho 25 anni. Assolutamente, scusami, quello te l'ho lasciato, eh. Certo, da ormai più di due anni sono consigliere comunale per Forza Italia, qua a San Donato Milanese, ma sono anche da qualche mese il coordinatore dei giovani di Forza Italia della provincia di Milano, quindi di tutti i 134 comuni. Da giovane non posso che cercare di guardare al futuro con tanta speranza, voglia di fare e mi piace tanto il termine visione, con visione, quindi guardare al futuro con una visione, con delle idee chiare su quello che voglio fare e forse con quella grinta che noi giovani abbiamo, andare a prendere quello che vogliamo, abbiamo dilineato una strategia, seguirla e ottenere. Ecco, questo è quello che mi sembra che sia mancato al Partito Democratico che, diciamocelo chiaramente, ha sempre governato il territorio del sud-est di Milano, governa San Donato come governa fino a Paullo, tranne pochissime e brevi parentesi del centro-destra, è un territorio a cui hanno sempre avuto un grosso bacino elettorale a sinistra. Quindi ovviamente hanno delle responsabilità, questo lo dobbiamo dire chiaramente, al non essere riusciti a ottenerlo fino ad adesso, ma non li ho neanche visti, sinceramente, combattere per ottenere un prolungamento di qualche tipo, di combattere seriamente, di farlo diventare una priorità e un interesse per il nostro territorio. Poi possiamo dividere tutto l'argomento in due grossi filoni, quello che interessa la città di San Donato e quello che interessa proprio tutto il territorio del sud-est di Milano. Quindi abbiamo delle esigenze noi come comune e abbiamo delle esigenze come territorio. Sul Partito Democratico ancora, mi sembra che non hanno proprio le idee chiare, questo non lo capiscono, governano tanto questo territorio, capisco che sono stati periodi difficili in cui trovare le risorse non sembrava possibile, qui arriva il cambio, perché il grosso cambio di questi giorni è, attenzione tutti, forse le risorse dal Recovery Fund ci saranno. Questo è quello che ha fatto ripartire le rotelle, però voglio dire, le risorse per tante altre cose si sono sempre trovate, voglio dire. Siamo uno stato che è ben conosciuto per essere spendacione, per spendere i soldi male. Quello che non ha mai fatto è spendere i soldi bene e per le infrastrutture, per il collegamento. Voglio dire, Milano è una città metropolitana che sembra essere solo sulla carta, perché quella è l'istituzione che è nata dalla riforma del Rio, del Partito Democratico, che doveva abolire le province, ha lasciato un ente non eletto, che non ha le risorse e che dipende totalmente dal comune di Milano. Quindi forse questo, l'ente che più di tutti avrebbe dovuto indirizzare verso queste nuove soluzioni negli ultimi dieci anni, non l'ha fatta, è mancata questa spinta propulsiva. Adesso ritorna in voga perché si pensa di riuscire a trovare le risorse e bene, cioè qua è inutile far polemica fin troppo e rimangare il passato perché si rischia di fare divisioni e quello che abbiamo bisogno adesso è di lavorare insieme tutti verso la stessa direzione. Che deve essere chiaro, ce lo diciamo, una volta che abbiamo capito che la soluzione migliore, migliore in termini assoluti, è il prolungamento della metropolitana, dobbiamo andare tutti quanti nella stessa direzione. Il PD ha scelto adesso che quella è la soluzione, non ne sono ancora sicuro perché quel famoso studio di fattibilità, non so se andrà a individuare, e non è così, non sarà così molto probabilmente la metropolitana, perché ovviamente in termini monetari assolutamente una cosa come 2 miliardi di euro, 1 miliardo 800 milioni che può costare la metropolitana per una soluzione di boost rapid transit, sicuramente dal lato economico è molto più vantaggiosa. Quello che preoccupa è un po' il lato, abbiamo sempre detto, sulla sostenibilità e sulla lungimiranza del progetto, fai un'infrastruttura che deve durare, deve durare tanto come le metropolitane che dal 1800, fino a 800 ci sono le prime metropolitane, se non sbaglio, adesso non vorrei dire fesserie, però sono infrastrutture che rimangono e che hanno fatto crescere le città. Ma poi ovviamente se non si fosse stato in grado di trovare le risorse, perché non è che le risorse non ci sono, non sei in grado di trovarle, chiariamoci, perché se sei un politico lungimirante, capace, con le idee chiare, si sarebbe riuscito a ottenere in tutti questi anni. Invece adesso, con le risorse sul piatto, sembra più facile, bene, che sia così, andiamo tutti insieme su quella direzione. Quello sicuramente. Non so se volete approfondire su questo argomento, aggiungere... Ma allora io vorrei prendere due piccoli spunti di quello che hai detto, poi faccio fare la domanda a Fabrizio, perché le domande sono due, quindi sono varificate, e poi rispondi anche a quella, e poi andiamo a magari fare una conclusione o prendere magari uno o altri due argomenti che possono essere utili, però vorrei prendere due termini che tu hai usato e tenerli lì e dire di metterli lì, perché dopo magari si potranno eviscerare meglio, e poi farei fare la domanda a Fabrizio. Ecco, devo dirti grande, nel senso che iniziare una discussione dove senti un ragazzo così giovane che parla di visione, direi che, ecco, per fare politica direi che serve quella. Poi se si trovano anche i soldi, cioè è impossibile che... Allora, con i soldi, senza visione, verrebbe fuori un dramma. Con soltanto visione, senza soldi, forse però, veramente, se uno è capace e riesce a mettere in campo quelle idee che servono, quella è la cosa migliore. Direi che è stato proprio così. È mancata una visione complessiva di quello che poteva essere veramente una lotta comune. Ci si è fermati a questo, diciamo così, certo non era cosa di poco conto, nel senso che anche la Corte dei Conti aveva detto, ma forse costruire quella infrastruttura nì. Però non c'è mai stata quella unità di intenti, quel desiderio. Insomma, l'anno scorso, quando ho visto i quattro sindaci di colore diverso marciare insieme per poter dire adesso la metropolitana arriva a Monza e con Sala in testa, mi sono detto, ma davvero io non posso dire che a San Donato deve succedere uguale, perché mi verrà detto, ah ma vuoi mettere l'indotto che crea la brianza con San Donato? Ma allora, intendiamoci, non è per essere sandonatesi o no, ma credo che il territorio nostro non abbia nulla da invidiare. È logico, sono una provincia autonoma ormai, però direi che quello che io vedo che è stato fatto a Monza si può benissimo fare in replica qui. E seconda cosa, quella la lascio lì, ma sai, anche tu hai detto, adesso vediamo un po' come vanno le cose, facciamo così. Io direi, tu hai detto, siamo uno stato spendacione, le spendiamo male. Io penso che noi abbiamo un'altra casistica che ci frena rispetto agli altri, cioè prendiamo il mondo anglosassone. Sai che nel mondo anglosassone, per esempio, un giornale tipo Repubblica, facciamo i nomi, non dico che sia difficile trovarlo, ma dico che al cittadino inglese è difficile che interessino il retroscena più di come vota il politico. Noi viviamo in un paese dove tu leggi il retroscena e dici, beh, ma allora il voto è stato per forza andato in questa direzione. No, no, quello che tu leggi come retroscena assolutamente può sfociare in un'altra cosa. Cioè, adesso, perché ti dico questo, dopo io ti chiederò questa riflessione. Tutti sono d'accordo? Il cittadino normale dice, beh, diciamo, adesso questi politici scriveranno una cosa comune, firmata da tutti, vanno in consiglio comunale, lo firmano e rimane nero su bianco. Ecco, la mia seconda domandina sarà, tu credi che accada a questa cosa, diciamo così, oppure bisognerà ancora andare a usare Google per dire, ah tu, ma però dopo mi sembra che hai detto che adesso volevi. Cioè, veramente noi possiamo fare politica andando a cercare le dichiarazioni su Google, piuttosto che sulla carta canta? Direi, ecco, io ti chiederò questo, se da parte tua ci sarà una volontà di coinvolgere per avere poi un documento votato all'unanimità anche a San Donato e che non resti solo un qualcosa da digitare su Google. Ti chiedo, tienitela lì questa domanda e andiamo a sentire, diciamo, se vuoi anticipare qualcosa. Ma guarda, ma io risponderei già a questo per poi passare all'altro argomento, magari un po' più sulla città di San Donato nello specifico, perché quello che dici è corretto. Si è avuto proprio la sensazione di questo spostamento del Partito Democratico dal dire la metropolitana, sì, a cercare altre soluzioni che era anche corretto, perché comunque era da valutare anche altri tipi di soluzioni. Si è perso tempo, sicuramente, si è persa anche la forza incisiva, perché quando tu riparti quasi da zero fai capire che non hai proprio le idee chiare, non hai proprio le idee chiare. Ma io vedo anche con altre associazioni come il Comitato C6, che ha riunito ultimamente i senatori del territorio, si è riaperto un dialogo, sono uscite anche le dichiarazioni dei onorevoli del Partito Democratico che hanno dichiarato che si batteranno per ottenere il prolungamento della metropolitana, quindi sono fiducioso, io cerco sempre di essere fiducioso. Tempo fa abbiamo presentato una mozione in cui chiedevamo che il Comune di San Donato assumesse la posizione di preferire il trasporto su ferro che su quello di gomma. Adesso voi l'avete già spiegato benissimo in diversi vostri articoli il perché. In una visione che abbiamo della Lombardia tra vent'anni, sappiamo che la pianura padana è una delle zone più inquenate al mondo, dobbiamo cercare di ottenere quelle soluzioni che riducono il più possibile l'emissione di polveri sottili. In questo istante gli pneumatici di gomma non lo garantiscono, cioè inquinano. Spero che con le innovazioni tecnologiche tra dieci anni inventeranno dei pneumatici che possano evitare questo. È qualcosa di futuristico, è qualcosa che si potrà integrare sicuramente nel futuro. Adesso, con queste carte sul tavolo, si aspetterà ancora qualche mese. In questo momento, se presentassi la stessa mozione, probabilmente non otterrei il voto favorevole del Partito Democratico perché siamo ancora in una situazione abbastanza di stallo. Però, senza andare a fare, a mettere nero su bianco un qualcosa, ma lavorando, come state facendo, come stanno facendo le varie associazioni, mettendo insieme ai parlamentari, facendo dialogo, facendo lobbying, fare lobbying in una maniera corretta, trasparente, senza secondi fini. Semplicemente portare gli interessi dei cittadini alla politica. Facendo questo possiamo ottenere molto di più. Andare a mettere nero su bianco vuol dire scontro, vuol dire ricriminare, vuol dire... Io al PD l'ho letto chiaramente nell'articolo che hanno le loro colpe e che non sono stati chiari in questi ultimi anni, che non hanno dato una visione, una direzione. Hanno temporeggiato, ci hanno fatto perdere tempo e a volte sembra essere quasi un argomento che non fosse di primo ordine. Cioè, perché sì, è una cosa che stiamo facendo, stiamo valutando, abbiamo lo studio, aspettiamo, la Corte dei Conti ha detto di no, quindi dobbiamo vedere. Però, cavolo, era una priorità o no? No, non era una priorità, evidentemente. Perché se fosse stata una priorità non si sarebbero arresi al fatto di questo, di quest'altro. Ha detto vediamo, aspettiamo, pensiamo. Se è una priorità, batti pugni sul tavolo, vai in regione, dici che la regione ti dice di no e dice il centrodestra in regione ti ha detto di no. Ci andrò a parlare anch'io e vediamo cosa succede. Ma tutto questo è mancato. Hai il governo, vai a bussare al governo e ti rispondono, ti dicono. Sei andato lì timidamente a chiedere o sei andato con tutta la forza che hai sul territorio, perché voglio dire il Partito Democratico le aveva ai voti, ai sindaci nel sud-est Milano, a chiedere queste cose. Cioè, cosa hai fatto in tutti questi anni? Adesso, di nuovo, come ho detto prima, la nuova speranza. Vediamo quello che succederà. Io penso che quando saranno un po' più chiari i termini di adesione per ottenere questi fondi, quando si vedrà che cosa ha preparato il governo per come usarli, lì allora forse riusciremo a bollinare un qualcosa in comune accordo, spero non solo su Sandorato, ma su tutti i comuni dell'asse. Fino ad allora è giusto far tornare in primo piano il dibattito, perché così dovrebbe essere sempre. Benissimo, allora prenderemo anche noi il tuo consiglio di tenere un po' il nero su bianco in un cassetto. Quindi, Fabri, non andremo neanche a sbirciare se nei nostri innumereboli banchetti qualche esponente del PD di gran nome avesse messo la propria firma o no. Terremo lì e andremo a controllarlo dopo. Che ne dici? Dico che adesso, in questo periodo di emergenza, se anche non volessero venire a firmare il banchetto per paura di prendersi il contagio, si può firmare anche online comodamente. Come diceva Luca, quello che è stato un po' fondamentale, anche la spinta, è arrivato da questa nuova energia della Comitato C6, che da molto tempo si sta battendo per riportare a luce questa esigenza della metropolitana. Anticiperemo che tra poco ci sarà una riunione, quello che dobbiamo fare tra tutti i sindaci del sud-est su questo argomento. Il C6, come diceva Luca, si è spinto sempre per la metropolitana fino al Paullo, perché andare nella scelta, nella direzione di un BRT, anche se apparentemente meno costoso, il BRT provoca un danno molto maggiore per l'ambiente, perché innanzitutto prevede una devastazione del territorio con la costruzione di due corsie preferenziali nel parco oricolo sul Mirano. Sicuramente non potrà passare rasente alla paulese, per cui dovrà passare o su Via 25 Aprile o sul Parco Tre Palle. Poi dalle nostre pressioni c'è stato detto che non passerà sul Parco Tre Palle, ma su il 25 Aprile, quindi sugli orvi urbani e sull'osile Vadina. Poi da lì non si sa dove andrà, magari volerà, perché diciamo che dopo c'è il Via di Vittorio e tutta la zona industriale. Qua Fabrizio fammi dire una cosa, scusa se ti interrompo, ma la cosa deve essere chiara. Non deve partire dalla metropolitana di San Donato, cioè quello è una cosa che sarebbe assurda da fare e da dire. Anche dagli ultimi piani, dal Pums piuttosto che altri, la metropolitana deve arrivare fino a fuori di San Donato. Poi adesso andiamo ad approfondire, ma questo è proprio... Quello che forse abbiamo imparato tutti quanti da questa emergenza è che i costi della salute sono veramente enormi e quindi la zona della pianura padana, che è una zona bassa, specialmente nella bassa padana verso Codoni e Rodi, tutte le polveri sottili vanno a finire in quella zona. Non a caso l'epidemia nasce da Codogno. Però se tutto quanto è stato in questo modo condotto fino ad oggi, oggi siamo finalmente tutti d'accordo, perché in tutti i giornali si dice non fino a Peschiera, ma fino a Paullo. Addirittura in una conferenza che si è venuta a fare la cosa giusta, il nostro sindaco dice addirittura fino a Crema. Benvenga, perché piuttosto che un raddoppio della paulese, preferisco un raddoppio della metropolitana. E quindi se tutti siamo d'accordo, lineati, per prolungare la metropolitana, però diciamo si racconta che, almeno io ho letto, che ci sia praticamente prevista una fermata solo in via Gera. Secondo me questo non ha senso. Nel tuo articolo che compare su San Donato mese di dicembre, io mi trovo d'accordo con la tua riflessione, che dopo tutto questo tempo realizzare una fermata in via Gera non serve a nessuno. E in particolare non soddisfa le esigenze dei cittadini di San Donato e dei comuni che si trovano sull'asse di Emilia. Quindi dove ti aspetteresti esattamente le fermate? Tu in parte spingi dal tuo punto di vista e nel tuo articolo dici che immagini queste due fermate nel territorio. Quindi come ti immagineresti però, immagini le fermate in via Regasperi e all'ospedale, no? Ma tu come ti immagineresti la trasformazione del territorio di San Donato con queste due fermate diciamo in via Regasperi e all'ospedale di San Donato con diciamo questo prolungamento della Gialla che poi a mio avviso deve proseguire verso Pestiera nella zona della Galleria Borromea andare a Pantigliate e proseguire per Careppio, Mediglia e arrivare fino a Paolo almeno. E quindi se ci raccontavi un po' quale era diciamo l'immaginazione, così una visione di una città futura con due fermate all'interno. Certo. Guarda c'è la visione che poi si scontra con la realtà, la fattibilità tecnica e è tutto quello che viene analizzato su documenti che ancora non si è dato il giusto peso. Cioè questi studi di fattibilità ancora non siamo stati coinvolti noi come consiglieri di minoranze di opposizione nel visionarli, nel parlarne, di farceli illustriare da qualcuno dalla città metropolitana piuttosto che dalla giunta. Ancora proprio, vedi non è stato messo il tema sul piatto, il tema di analisi, di approfondimento. Io ti parlo della visione, di quello che vorrei. Perché quello non ci è stato ancora concesso. Probabilmente spero che sia il momento giusto di prendere in mano anche le carte e analizzare poi la fattibilità. Però per esempio il stesso discorso, almeno diciamo quello che sarebbe auspicabile e la soluzione migliore per San Donato. In questo caso noi ci troviamo ad avere un terminal che sappiamo bene ci ha causato l'annoso problema del traffico di attraversamento e per di più non soddisfa appieno le esigenze del territorio. Noi ci troviamo ad oggi ad avere delle grossissime multinazionali sul territorio che trasportano veramente migliaia di dipendenti verso San Donato, un istituto superiore di migliaia di studenti, tutto in uno stesso polo che si può racchiudere nel centro non di San Donato come si può intendere nel centro delle altre città. sappiamo che abbiamo questo problema di non avere un vero centro, però è a metà dalla metropolitana al confine con Peschiera e San Giuliano che abbiamo quelli che sono gli uffici della Saipem, 4.000 dipendenti che sappiamo già che però migreranno da Santa Giulia proprio probabilmente proprio perché si troveranno meglio con le soluzioni del trasporto, quindi già le aziende scelgono altri territori che sono meglio collegati, metropolitana e treni, ci troveremo questi palazioni che si svuotano. Un palazzo di 4.000 dipendenti che si svuota può portare degrado, può portare disagi. Dobbiamo riqualificare quella zona. Un modo per farlo è quello di fare arrivare la fermata. Se tu pensi a un'azienda, la comodità di avere una fermata sul territorio, proprio... E poi io non immagino una sola azienda in quel comparto, poi ovviamente sono decisioni private. Però proprio perché da giovane vedo la città invecchiare, mi piacerebbe vedere in quei palazzi il crearsi tante imprese, start-up di giovani che magari usano quelle strutture per rilanciarsi. Io vorrei una San Donato prima della classe, anche in Italia, che portasse in Italia innovazione e idee. Avere una metropolitana che ti collega a una città come Milano, cioè sei Milano, tu non sei più San Donato, non sei staccata, non è che arrivi lì e poi da lì non sai più come muoverti. Hai una fermata che va a coprire un bacino di utenti molto ampio. Quello dell'ospedale, ecco, non so che tipo di soluzione, se c'è la possibilità di ramazione verso l'ospedale piuttosto che un altro servizio di navetta, fammela dire qua perché tanto appunto per questa visione che vedo si adatterebbe benissimo un qualche sistema a guida autonoma per queste brevi tratte veloci da sperimentare sul territorio, non sarebbe male. Mancano pochi minuti. Sì, per concludere quindi puntiamo, puntiamo sicuramente per il territorio ad avere più fermate. Non ne basta una che si ferma in via Gela, abbiamo bisogno anche per il nostro interno, per rifar crescere il territorio, per far crescere San Donato, per essere attrattivi, per essere veramente città metropolitana, essere Milano e per rifar vivere una parte del territorio che avrebbe enormi benefici dall'avere un'altra fermata sul nostro territorio. Questo deve essere un obiettivo di San Donato, di San Donato, dire noi lo vogliamo. Poi, se saranno altri a prendere la decisione che non è fattibile, è un conto, però quella è l'idea. Noi vogliamo, vorremmo tenere questo. Questo ditelo chiaramente, e quello è l'appello che faccio appunto al vice sindaco Ginelli, che sarà probabilmente il prossimo candidato sindaco. Spendiamoci tutti quanti uniti per ottenere questo obiettivo. Ok, ti ringraziamo per questa intervista e veramente alla prossima. Diciamo che in parte le tue visioni sono anche le nostre visioni, soprattutto per quel luogo che si svuoterà della Saipem, che è un peccato veramente, quindi bisogna rigenerarlo. La rigenerazione urbana per me deve nascere da lì. Assolutamente, speriamo che ci siano altre occasioni come questa di confronto, perché è quello che ci porterà ad ottenere il risultato. Il confronto delle idee, delle opinioni, è una cosa che è mancata, il coinvolgimento della cittadinanza e la pressione della cittadinanza sulle scelte dei politici. Dobbiamo dettare le priorità. Il prolungamento della metropolitana deve essere una priorità per il nostro territorio e deve essere una priorità per la città di San Donato e una volta che lo è noi non possiamo accontentarci di una cosa. Finché era una cosa impossibile ci saremmo anche accontentati. Adesso che è fattibile, non accontentiamoci, ma cerchiamo di ottenere il meglio. Ok, ti ringrazio. Ringrazio anche io Luca e dico la prossima volta, non più come noi, ma come Bicipolitana Network, perché ci sarà una grande battaglia. La pista ciclabile fino a Paullo. Alla prossima. Io la vedo su fino a Melegnano. Quella è una battaglia che sicuramente si può fare a brevissimo. La via Emilia ciclabile è eccezionale. E la Paullese. Anche quella, cerchiamo la soluzione. Ciao ragazzi. Grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao.